Nel fine settimana, otto minorenni sono stati fermati all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato dall'azienda sanitaria nella struttura e sono stati fermati da agenti della polizia intervenuti sul posto. Le forze dell'ordine hanno proceduto al riconoscimento dei giovani autori dell'incursione che dalle prime verifiche non avrebbero comunque rubato niente. Nell'ultimo periodo, come ha spiegato il direttore del Dipartimento Patrimonio Nicola Ceragioli, forse anche a causa delle chiusure e delle limitazioni legate al coronavirus, le intrusioni abusive nel complesso di Maggiano si erano ridotte in maniera consistente rispetto al 2019 che invece aveva fatto registrare autentiche cifre record con 252 persone segnalate alle forze dell'ordine di cui alcune finite a processo per direttissima. Negli ultimi anni, nel complesso, non si sono verificati furti perché le opere di pregio sono state preservate e sono adesso custodite in altre strutture aziendali o museali, ma non sono mancati danneggiamenti.